Sono il direttore di Fondirra, Fondo Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti. A partire dal 2008 ci siamo posti successivamente il problema di dematerializzare il nostro archivio cartaceo. Quindi abbiamo provveduto ad accettare la documentazione anche firmata digitalmente, però abbiamo in ogni caso riempito i nostri archivi di cartaceo e soprattutto avevamo un grosso problema di archiviazione digitale di questa documentazione. Ci siamo quindi affidati a questo software Elo che si è dimostrato molto molto affidabile perché ci permette di raccogliere e recuperare i dati di tutti i progetti che abbiamo ad oggi finanziato e presentarli anche in fase di controllo da parte delle autorità vigilanti. Dematerializzare significa anche fare un salto verso il futuro, significa rendere una pubblica amministrazione molto moderni, dinamici e attenti alle esigenze delle aziende, essere più rapidi e quindi andare sempre più velocemente verso quelle che sono le loro necessità. Un esempio della collaborazione tra Fujitsu ed Elo è proprio con Fondirra. Abbiamo infatti realizzato un progetto ad alto valore in cui gli scanner documentali utilizzati per dematerializzare gli archivi cartacei di Fondirra hanno prodotto delle immagini di alta qualità che sono poi state utilizzate per andare a gestirne i contenuti. In questo modo Fondirra può gestire ora in digitale tutte le informazioni che sono state per anni all'interno di archivi cartacei e quindi decisamente meno fruibili. Sono Giovanni Guelfi, sono il responsabile della dematerializzazione e della documentazione di Fondirra. Con Elo siamo riusciti ad ottimizzare lo spazio della nostra sede di Roma, avendo più spazio per noi per quanto riguarda l'ufficio e soprattutto per gestire in maniera più snella molte informazioni in formato digitale. Da quando abbiamo Elo nella nostra azienda tutto è cambiato. Grazie ad Elo riesco a scansionare la mia documentazione, a scambiarla con i miei colleghi in una forma semplice, comoda. Riesco ad indicizzare tutto e ritrovare tutte le informazioni quando voglio. È veramente comodo. Grazie a tutti.